Oggi a Prato abbiamo premiato i vincitori dei concorsi dedicati alle classi e alle famiglie del progetto Energicamente. Un progetto dedicato alle scuole che nasce ormai molti anni fa, un progetto di estra per informare i ragazzi ma anche le famiglie sull'uso corretto dell'energia. I nostri partner sono Giunti e Lega Ambiente e ormai questo progetto è cresciuto così tanto da coinvolgere 6.000 ragazzi nell'Italia centrale e nelle regioni della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo, delle Marche. Quindi un progetto che cresce e che nell'anno prossimo crescerà ancora coinvolgendo altre quattro regioni e che ha il compito di promuovere la sostenibilità ambientale anche nel campo dell'energia. Una sostenibilità che estra promuove anche in tanti altri servizi, principalmente quelli dell'efficienza energetica. Quindi sta dentro le strategie dell'azienda ma sta anche dentro una concezione di una società attenta al proprio territorio e all'ambiente circostante.